E se il commissariato di Polizia di Formia trovasse una nuova sistemazione, a pochi merdi di distanza, in quello che sino ai primi anni 90, prima del fallimento, era l'ex clavativicio Gino Pompei? È solo un'ipotesi, ma sta prendendo corpo, dopo la volontà della questura di Latina, per conto del Ministero dell'Interno, di non voler più rinnovare il contratto di locazione, definito economicamente molto dispendioso, con la proprietà dove è tuttora ubicato il commissariato di Formia. Il problema l'ha posto il sindaco Sandro Bartromeo, nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, suggerendo a tutte le forze politiche di elaborare un ordine di giorno che chieda alla questura e al Viminale di voler conservare questo presidio di legalità, dopo l'ipotesi di quest'estate, di trasferirlo presso l'ex tribunale di Gaeta, in località Calegna, per dar vita ad un unico super commissariato del Golfo. È sempre in cambio del pagamento di un affitto. Se quest'ultima eventualità è stata di nuovo rilanciata dal Consigliere Comunale di Gaeta dell'Udc, Giuseppe Matarazzo, il Consigliere Comunale Formiano di Forza Italia, il Presidente del Consorzio di Sviluppo Industriale del Sud Pontino, l'Avvocato Salvatore Forte, ha avanzato una proposta intelligente e concretamente operativa. A ospitare gli uffici del commissariato potrebbe essere proprio l'ex sclamatificio di Via Spaventola, la cui proprietà, a giorni dopo la conclusione della procedura di acquisizione, potrebbe entrare a far parte del patrimonio immobiliare dello stesso Consorzio Industriale. Con un accordo politico si informalizzerebbe subito un contratto di allocazione con il Ministero degli Interni, con vantaggiose condizioni economiche tali da salvaguardare il commissariato di Formia. La proposta ubicativa dell'ex discoteca Marina di Castellone, avanzata dal consigliere d'opposizione Mattia Prea, è stata congelata in quanto la procedura di confisca alla Camorra non è ancora conclusa. Ecco perché bisogna fare in fretta l'insegna della unità, l'eventuale soppressione a Formia del commissariato di Polizia significherebbe fare un altro regalo alla Camorra e la città, ora come non mai, non può permetterselo.